Quindi io penso che un discorso pedagogico, anche per esempio utilizzando, prima parlavamo linguaggi, ogni volta linguaggi diversi, a fine spettacolo sempre facciamo i dibattiti in confronto con i ragazzi. E non sto parlando proprio di incontri pedagogici, dei laboratori, che comunque si fanno e portano a un lavoro di presa di coscienza su tutto. Parlo proprio anche solo dell'ospetto teatro e dopo il dibattito. Spesso e volentieri si mettono anche in evidenza, appunto, questo spettacolo si è utilizzato per esempio al linguaggio corporeo e allora cosa può raccontare il corpo, quali sono le potenzialità che abbiamo nel linguaggio non verbale, cosa dico più delle parole che dico oppure cosa nega le parole. In altro spettacolo magari come la musica può lavorare sulle emozioni, sul trasformare un'immagine, sul trasformare una relazione, le altre immagini come, non so, anche proprio il colore. Lavoriamo sempre su tutti gli elementi anche teatrali e secondo lo spettacolo, anche il linguaggio che utilizziamo, ogni volta andiamo a lavorare su quelle che sono anche le scelte, se è stato uno spettacolo più, appunto, di clownerie, piuttosto che uno spettacolo, quindi lavorando sulle caratteristiche, eccetera. E il discorso pedagogico, quindi al di là di andare poi magari a sviscerare quello che c'è dietro, io penso che sia proprio già in situ nello spettacolo, nel senso che quello che viene raccontato, come viene raccontato, appunto i temi che magari senza bisogno della spiegazione, che come è scuola, ma ti arrivano da un'altra parte, poi lo verifichi a volte, pensi che non arrivi così tanto quanto arriva, perché a volte ti arrivano le letterine, piuttosto che le risposte, piuttosto che chiedi, e capisci che c'è una ricchezza in quello che, si dice sempre che il teatro si fa in treno, nel senso ci siamo noi, ci sono loro, ma quello che si crea in mezzo e ogni volta è diverso, questo incontro magico apre altre possibilità, e altri, quindi sì, io credo che il teatro non l'ho mai inteso come puro intertenimento.